Grazie. È scritto a parlare a titolo personale l'onore colonnese. Ripetere sempre lo stesso concetto è difficile. Qui diventa quasi normale. Noi qui stiamo parlando dell'assurdità di accostare la scuola al sistema aziendalistico che viene proposto da un governo che dovrebbe essere di sinistra. La sinistra italiana, in questo momento, sinistra che non esiste, sta dicendo che la scuola deve diventare azienda, deve azzerare la possibilità di tutti per avere una possibilità nella vita. E questa è la cosa. Adesso le scuole diventeranno di serie A e di serie B. Io penso a un ragazzo nella periferia di Napoli che ha un solo strumento per riuscire ad andare avanti che è quello della scuola. Adesso deve subire l'ennesimo ricatto anche del dirigente scolastico. A questo voi state portando la scuola italiana. Grazie, grazie veramente. Grazie. È scritta a parlare l'onore di Benedetto, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Il tipo di sistema che si sta cercando di calare nella scuola pubblica è un sistema fondamentalmente aziendalistico. Ci sarà il Preside a capo di tutto, un sistema verticistico. E questo Preside avrà poteri tali da andare in barba al merito dei docenti, aprire le porte alla corruzione nella scuola pubblica e arrivare, Presidente, perché no, al paradosso che in Italia si potrebbero addirittura arrivare a sciogliere le scuole per mafia. Perché quello che potrebbe accadere è questo, aprire le porte alla corruzione anche all'interno dell'unico strumento che ancora esiste in Italia per poter cercare di uscire da questa condizione di illegalità diffusa anche all'interno delle istituzioni. Perché la scuola è uno strumento per liberare i nostri giovani. Così la stiamo trasformando in uno strumento opposto. Grazie. Grazie a lei. A titolo personale, l'onorevole Cominardi, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Io capisco che il Premier Matteo Renzi è diventato Presidente del Consiglio su chiamata diretta, ma la scuola dovrebbe essere un'altra cosa. Ovviamente come i due Presidenti del Consiglio che l'hanno preceduto senza un minimo di legittimazione popolare. Ma quello che voglio dire è che state distruggendo la scuola, la scuola pubblica in particolar modo. Ma io vorrei sapere, i vostri figli, dove li mandate? La scuola pubblica o la scuola privata? Perché se li mandate la scuola pubblica, la state distruggendo così, siete scemi due volte. Onorevole Ottavi, scusi, l'ho già richiamata all'ordine una volta. Se lei vuole uscire all'aula per la terza volta, basta che continua e io la caccio fuori. Prego, onorevole Gallinella, a titolo personale. Grazie, Presidente. Io volevo solo, pacatamente, fare una riflessione. Chiamata diretta.